Fratelli e sorelle nel Signore, oggi volevo parlarvi delle parabole e di due racconti per imparare a discernere, a valutare determinati elementi quando si leggono le scritture. Perché quando leggiamo le scritture dobbiamo sempre individuare se si tratta di uno scritto che è una parabola, una similitudine o una metafora, un paragone, una illustrazione, oppure se sono dei veri e propri racconti di fatti realmente accaduti. Per quanto riguarda le parabole, cominciamo dalla spiegare cos'è una parabola. La parabola è un modo di parlare, un'arte oratoria che rientra nella capacità di parlare che serve per illustrare una verità, una verità che riguarda la moralità, la religiosità, che riguarda qualcosa da trasmettere a chi ascolta. E questa trasmissione, questa illustrazione avviene servendosi di un paragone che viene tratto da un fatto della vita ordinaria, che è conosciuto a chi ascolta come dei fatti che accadono ordinariamente quasi tutti i giorni. Facciamo un esempio, ad esempio, dobbiamo andare a leggere in Marco 4, al versetto 3, facciamo un esempio di parabola. U dite, ecco, il seminatore uscì a seminare. Vedete, questo è un esempio, poi lo dice dopo che è una parabola. Perché quando leggiamo qualcosa, qualche illustrazione, qualche spiegazione, un racconto, qualcosa che, diciamo, dobbiamo esaminare se questa è una parabola oppure un fatto realmente accaduto. Perché se non riusciamo a distinguere queste cose, noi possiamo, diciamo, sbagliare nel fare le considerazioni che sono all'interno di quel racconto. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è vedere se, quando leggiamo, se, in quella storia che è scritta, c'è qualche cosa che ci fa pensare che sia una parabola. Se c'è la parola parabola, la parola similitudine, se c'è la parola come, no? Che indica uguaglianza, somiglianza, assomiglianza, similitudine. Quando ci sono queste parole, allora significa che si sta parlando di parabole. Si tratta di illustrazione. Illustrazione che si prende a un fatto della vita ordinaria e parlando di questa cosa, di questo fatto che avviene ordinariamente nella vita, si spiega una verità morale, una verità religiosa, una verità dottrinale, una verità, una verità, comunque. Quindi dobbiamo vedere i testi, i testi, se riportano delle parole, qualcosa che ci fanno capire che quello che è scritto lì è una parabola o una similitudine. Quindi abbiamo visto quella del seminatore, ad esempio, il seminatore uscì a seminare. Quella è una parabola perché è scritto che era una parabola. Infatti è scritto al versetto 4.2 del Vangelo di Marco, ed egli insegnava loro molte cose in parabole. E diceva loro nel suo insegnamento, udite, ecco il seminatore uscì a seminare. Vedete, quindi Gesù parlava, cioè il seminatore uscì a seminare, è una parabola. Andando avanti, leggiamo 4.26, facciamo degli esempi, vi faccio degli esempi per individuare le parabole. 4.26 è scritto, sempre di Marco, qui è un'altra parabola. Diceva ancora, il regno di Dio è come, vedete la parola come? È come un uomo che getti il seme in terra. Questo come indica uguaglianza, quindi indica paragone. Paragone con un fatto che avviene, diciamo, nella vita ordinaria, e viene preso da Gesù per spiegare una verità. Una verità morale, una verità religiosa, una verità che riguarda la sana dottrina, naturalmente. Questi sono gli insegnamenti di Gesù. Andando avanti ancora, leggiamo al versetto 30. Capitolo 4 del Vangelo di Marco, versetto 30, diceva ancora. A che assomiglieremo noi, a che assomiglieremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? Vedete, qui ancora c'è la parola assomiglieremo. E vale anche la stessa cosa quando troviamo similitudine. Queste parole indicano che si sta trattando di una parabola. Ma ora vediamo che Gesù spiega anche perché lui si rivolgeva alle persone parlando in parabole. Non solo è importante sapere che cosa è una parabola, riuscire a distinguerla nelle Sacre Scritture, ma dobbiamo anche leggere, adesso andremo a leggere, perché Gesù parlava in parabole. Purtroppo c'è una convinzione in molti che dicono che Gesù parlava in parabole per farsi capire meglio da tutti. Ecco, questa è una frase, un concetto sbagliato e lo andiamo adesso a leggere. Perché in verità Gesù non parlava in parabole per farsi capire da tutti, ma per nascondere certe verità a quelli di fuori. Mentre poi le spiega da intendimento e intelligenza a quelli che invece sono di dentro. A quelli che Dio vuole far intendere, li fa intendere la parabola e le altre verità anche, dottrinali. A quelli invece che sono di fuori e a cui Dio non vuole far intendere, ecco che questi non capiscono, non lo intendono. E questo lo dice Gesù, rimaniamo sempre nel Vangelo di Marco e leggiamo. Capitolo 4 dal versetto 9 sta scritto Quando egli fu indisparte, quelli che gli stavano intorno, coi dodici, lo interrogarono sulle parabole. Ed egli disse loro A voi è dato di conoscere il mistero del regno, del regno di Dio. Ma a quelli che sono di fuori, tutto è presentato per via di parabole, affinché, vedendo vedano sì, ma non discernano. Udendo odano sì, ma non intendano. Che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi. Vedete, qui dice, appunto, spiegò a quelli che erano intorno a lui, perché c'erano i credenti che erano intorno a lui. Allora Gesù parlava delle folle immense, però a quelli che gli erano più vicini, che erano i dodici, ed altri che erano i suoi discepoli più stretti, Gesù parlava in parabole e a loro spiegava tutto. E gli ha detto perché parlava anche in parabole. E dice, a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Fratelli del Signore, questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che non a tutti è dato di conoscere la sana dottrina, non a tutti è dato di conoscere quello che è scritto nella parola di Dio. E noi siamo tra quelli, noi siamo tra quelli, dobbiamo essere tra quelli, siamo e dobbiamo continuare ad esserlo, siamo tra quelli di cui Dio si è compiaciuto di farci conoscere la sana dottrina, la verità della parola di Dio. Quindi non dobbiamo disprezzare queste cose che Dio ci ha donato. Non siamo nulla in questa terra, siamo sprezzati da tutti, siamo offesi, siamo insultati, non valiamo niente. Per il mondo noi siamo meno che niente. Ma non per il Signore. Non per il Signore, perché il Signore ha decretato nella sua volontà, secondo il beneplacito della sua volontà, a noi di farci intendere la verità, quello che è scritto nella parola di Dio. Perché badate bene, fratelli, anche altri che dicono di essere credenti non intendono cose basilari che sono nelle Sacre Scritture. Non le intendono, non gli è dato di intenderle. a quelli di fuori che non sono neanche scritti nel Libro della Vita, quelli non intendono proprio nulla, non intendono, non gli è dato. È dato ad intendere la parola di Dio solamente a quelli che Dio vuole che la intendano. Infatti qui lo dice chiaramente, vedete come è scritto? A voi è dato, quindi non a tutti, a voi è dato di conoscere il mistero del Regno di Dio. Ma a quelli che sono di fuori, e quindi sta parlando di persone che sono distanti da Lui, che sono fuori dal Regno dell'Iddio vivente e vero, e che sono distanti da Gesù, non è dato, a loro non è dato, di conoscere i misteri del Regno di Dio. Per loro rimangono misteri, cose sconosciute, non le intendono, né parlano, ma non hanno capito nulla. Perché alcuni, hanno la Bibbia in mano, parlano ma non sanno quello che stanno dicendo, non l'hanno capito. parlano perché hanno studiato, parlano perché hanno letto i commentari, parlano perché hanno fatto certi studi, citano le cose che hanno imparato, che hanno nella loro memoria, ma non hanno tali cose nel loro cuore e non le hanno comprese profondamente. E' questa la differenza tra quelli che veramente hanno compreso. Qui uno può saper parlare, scrivere, può sapere tutte le lingue originali che volete, può avere una conoscenza di tutte le cose bibliche, molto più ampia di noi, ma può parlarne senza avere compreso. Infatti, quando si approfondiscono determinati discorsi, si capisce che hanno una grande cultura biblica, ma non credono, non intendono, non hanno compreso quello che realmente vuole dire il passo della Bibbia. Qui dice ancora Gesù, a quelli che sono di fuori, tutto è presentato per via di parabole, affinché, notate bene, lo scopo di presentare le cose in parabole a quelli che sono di fuori, lo dice qui, affinché vedendo vedano sì, ma non discernano. Le cose le vedono, le cose le leggono anche, ma non hanno discernimento, perché il discernimento spirituale viene solo dall'iddio vivente vero. Anche quello, quando ci mettiamo in preghiera, noi dobbiamo chiedere a Dio, signore, io non sono capace di intendere da solo, non ho intendimento, non è che sono io più intelligente degli altri, è che l'intendimento, il discernimento, la sapienza vengono da Dio, e in preghiera ci dobbiamo ricordare sempre di chiedere queste cose, perché intendere la parola viene dall'iddio vivente vero, non viene dalla nostra intelligenza, non siamo capaci di fare alcunché da noi stessi, la nostra capacità viene da Dio, e questo lo dobbiamo dire, ricordare sempre, perché dobbiamo dare tutta la gloria all'iddio vivente vero. Noi non siamo nulla, siamo carne e polvere, però altresì, altresì disprezzati dal mondo, il Dio ci ha dato un grande valore, ci ha reputati di affidare a noi il mistero del regno, di farci comprendere a noi la verità della parola di Dio, i misteri del regno di Dio, i misteri della parola di Dio, il Dio, non tutti magari ancora, ma una parte, una grossa parte, il Dio ce l'ha rivelata, ce l'ha fatta intendere, vedete? Perché il discernimento non è a tutti che viene dato. E poi, continuando la lettura, dice, udendo, odano sì, ma non intendono. sono molti quelli che ascoltano le predicazioni, ma non le intendono, non capiscono, non mettono insieme i pezzi in maniera corretta, badate bene, l'intendimento è fondamentale. Talvolta noi, talvolta taluni, si mettono a studiare, estraggono una conseguenza a quello che stanno studiando, ma una conseguenza, sì, c'è un risultato, ma bisogna vedere se è quello giusto, però, perché può non essere giusto, può non essere il risultato giusto a cui la scrittura vuole che si arrivi. Quindi, si arriva a una conclusione corretta, solamente se Dio ci dà intendimento per mettere insieme gli elementi di quello che stiamo leggendo, studiando, e arrivare alla giusta conclusione. E questo viene da Dio. E come ha detto Gesù, ti è piaciuto, ti rendo lode, oh Padre, Signore del Cielo e della Terra, che ti è piaciuto rivelare queste cose ai piccoli fanciulli, e li hai nascosti ai savi e agli intelligenti, secondo il mondo, naturalmente. Quindi, vedete, Dio cerca persone semplici, Dio cerca persone serene, tranquille, che non si inorgogliscono, che non tendono a gonfiarsi con gli altri per qualcosa che si sono messi a studiare. No. E Dio cerca persone semplici, che accettano, con un cuore semplice, quello che gli viene detto, e che l'accettano e rimangono semplici. che non si credono più di quello che realmente sono. E' chiaro che noi non ci dobbiamo inorgogliere, non dobbiamo sentirci superiore a nessuno, però è anche vero che non ci dobbiamo gettare via. Cioè, non ci dobbiamo, siccome non siamo in evidenza nei confronti del mondo, dell'Italia, dell'evangelismo italiano, non siamo, diciamo, in evidenza, non vuol dire che Dio non sta badando a noi, non vuol dire che Dio non ci sta dando quello di cui abbiamo bisogno. Perché Dio già il fatto che ci abbia dato intendimento è già un dono che non dà a tutti. Se ci ha fatto comprendere le sacre scritture e determinate cose che molti non hanno compreso assolutamente, quello è già qualcosa. E sono dei doni, è un dono glorioso e potente che Dio non dà a tutti. A quelli di fuori non gli è dato. E talvolta anche a quelli che sono di dentro nel regno di Dio che dicono di essere credenti neanche a loro è dato di intendere. Quindi vedete come il Signore sceglie lui le persone a cui far intendere quello che è scritto nella sua parola. Questo ve lo dico, ve lo ricordo ancora, ancora una volta ve lo voglio ricordare affinché nessuno si inorgoglisca. Quello che noi abbiamo ricevuto, quello che sappiamo, lo sappiamo perché l'abbiamo ricevuto da Dio, quello che noi impariamo lo stiamo ricevendo da Dio, non da noi stessi, non è che un uomo è più di un altro qua, è Dio che ci sta facendo comprendere a tutti, a tutti quello che è scritto nella sua parola affinché obbediamo e seguiamo le orme di Cristo Gesù il nostro Signore e Salvatore, sempre per dare gloria a Lui però, perché noi ricordiamoci sempre che siamo carne e polvere. La conclusione sempre del fatto che Dio, che Gesù parlava in parabola e quindi nascondeva i misteri del regno, guardate cosa dice, che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi, perché la conseguenza della conversione di una persona, del ravvedimento e di credere nell'Evangelo, nella verità della parola di Dio, e nella verità del messaggio che gli viene annunziato porta alla remissione dei peccati. Quindi, vedete, quindi la volontà di Gesù era che a quelli di fuori, che a determinate persone non si dovevano, non si devono ancora oggi, non si dovevano allora, ma non si devono neanche oggi convertire e i loro peccati non vengano rimessi. Questi sono i reali motivi per cui il Signore nostro Gesù Cristo parlava in parabole. Quindi non parlava in parabole per farsi comprendere meglio da tutti, no, parlava in parabole per nascondere il significato, la verità, la verità che era nascosta in quella parabola, a cui, ad alcuni, Gesù dava di intendere, o glielo spiegava direttamente. Oggi a noi cosa succede? Succede che attraverso lo spirito dell'Idio vivente e vero ci viene spiegato, ci viene dato quell'intendimento, quella capacità di capire quello che stiamo leggendo nelle sacche scritture o ascoltando quello che si sta dicendo per quanto riguarda la parola di Dio. È Dio che fa intendere, è lo Spirito Santo che fa intendere. Quindi, se uno ha capito e l'altro no, significa che in uno lo Spirito Santo ha operato e nell'altro che non ha capito non ha operato. E in tutti quelli che sono di fuori, che non sono scritti nel libro della vita, non avverrà mai che comprendano affinché non si convertano e non siano loro rimessi i peccati. Vedete? Ancora una volta, anche in questo, noi vediamo la predestinazione, no? Vediamo che la salvezza, la conoscenza, tutto proviene dalla volontà dell'Idio vivente e vero. non proviene dall'uomo, non dipende dall'uomo in nessuna maniera, ma ogni cosa dipende soltanto ed esclusivamente da Dio, dall'Idio vivente e vero. Quindi abbiamo visto perché Gesù parlava in parabole. Ora, abbiamo visto quindi che la parabola è una illustrazione presa da una vita, dalla vita di tutti i giorni, no? per spiegare una verità morale. È un'arte oratoria, no? È un modo, è un metodo che si può utilizzare nel parlare, per spiegare qualcosa agli altri. E la scrittura, in alcuni, in alcuni, in alcuni racconti, in alcuni scritti, ci sono delle parole che ci fanno capire che si tratta appunto di parabole. C'è scritto la parola parabola, similitudine, oppure c'è la parola come, oppure assomiglieremo. Ci sono delle parole che ci fanno comprendere che si tratta di una parabola. Quindi, quando noi, in certi scritti, in certi fatti raccontati da Gesù, se non c'è, non ci sono queste parole, allora, dobbiamo cominciare, dobbiamo pensare e credere che quello che Gesù ha detto è un fatto realmente accaduto. uno di questi fatti che è importante sapere appunto è quello che leggiamo al capitolo 16, capitolo 16 del Vangelo di Luca, il ricco e l'azzaro, che adesso andremo a leggere. Il ricco e l'azzaro non è una parabola, questo è importante perché se noi dicessimo che è una parabola poi bisogna dargli il significato, perché è una caratteristica, una caratteristica delle parabole che ogni elemento di questa vita, di questo paragone che si fa bisogna dargli un significato spirituale, un particolare tipo di significato, quindi che talvolta ci si può allontanare dal fatto descritto. Nei racconti invece si trae, se nei racconti realmente accaduti si trae sempre un significato, una verità morale, religiosa, una verità biblica, una verità che diciamo viene da Dio, una verità dottrinale, però viene così com'è, cioè l'apprendiamo, noi la impariamo così come scritta, perché è un fatto realmente accaduto in quella maniera e noi traiamo da quel fatto che è accaduto per comprendere determinate cose, ma non possiamo dare significati spirituali, si potrebbe in tal unicasi, però non si deve mai contrastare al racconto reale che è avvenuto. Infatti alcuni piace pensare che la storia di Enrico e di Lazzaro che si incontrano, che parlano lì nell'Hades che sia una parabola, perché così cominciano a dare significati, cominciano a eliminare il fuoco dell'inferno dell'Hades, il fuoco del tormento del ricco, lo cominciano a eliminare e cominciano a dargli altri significati. No, ma quel tormento è l'angoscia e la sofferenza di stare lontani dal Signore, cominciano a dargli dei significati che non corrispondono alla verità. Ma questo perché? Perché sono partiti da un presupposto sbagliato che è quello di pensare che quel racconto sia una parabola. Ecco quindi che è importante quando si legge un testo capire immediatamente se si tratta di una parabola oppure no. E questo che adesso leggiamo, lo leggiamo per intero, il racconto di Enrico e di Lazzaro, lo leggiamo perché così insieme andiamo a vedere se c'è qualche cosa che ci possa far pensare che sia una parabola e quindi dobbiamo dargli se è una parabola dei significati spirituali. Ma se non c'è niente che ci possa far pensare che sia una parabola è un racconto quindi è realmente un fatto accaduto in quella maniera e quindi ci fa sapere delle cose che sono accadute tra cui l'esistenza di quella fiamma che tormenta il ricco una fiamma vera reale che esiste realmente quindi ci siamo posti qui in questo quesito che adesso andiamo a leggere vediamo se il racconto può essere preso come una parabola oppure no io già vi dico che è un racconto è un racconto perché non c'è nulla in quel racconto tra Enrico e Lazzaro che ci possa far pensare che sia una parabola non c'è niente nessuna parola capitolo 16 del Vangelo di Lucca dal versetto 19 or vi era un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente e vi era un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno di ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco anzi perfino venivano i cani a lecargli le ulceri or avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo morì anche il ricco e fu seppellito e nell'Hades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del ditto nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma ma Abramo disse figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato e oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là si passi da noi ed egli disse ti prego dunque o padre che tu lo mandi a casa di mio padre perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'essi avvenire in questo luogo di tormento Abramo disse hanno Mosè e i profeti ascoltino quelli ed egli no padre Abramo ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno ma Abramo rispose se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse quindi leggendo questi passaggi biblici di questo racconto non c'è nessuna parola che abbiamo citato che possa farci pensare che sia una parambola questo è un racconto di qualcosa che è realmente accaduto quindi se è qualcosa che è realmente accaduto c'è la realtà delle cose un qualcosa di nascosto un qualcosa che è avvenuto nell'Hades quindi in un punto nascosto di cui nelle scritture poco si parla quindi per noi diventano queste informazioni importantissime che vengono raccontate da Gesù e quindi ci fanno conoscere è uno dei punti in cui il Signore ci fa conoscere cosa è l'Hades cosa succede nell'Hades intanto vediamo che hanno vissuto nella vita terrena ci sono due persone che nella vita terrena hanno vissuto in questa vita uno ha vissuto nelle ricchezze godeva splendidamente vestiva in modo ricco in maniera ricca l'altro era povero malato aveva degli ulceri aveva fame perché voleva sfamarsi vedete quindi nella vita ha ricevuto dei mali nel senso che ha sofferto il ricco invece ha goduto splendidamente in questa vita ha ricevuto i suoi beni infatti lo dice dopo Abramo dice ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua gli dice il ricco e che Lazzaro similmente ricevete i mali quindi in questa vita in questa vita cosa dobbiamo fare se soffriamo se soffriamo dobbiamo stare attenti perché perché se soffriamo non dobbiamo addebitare nulla di malfatto al Signore perché evidentemente è chiaro che diciamo se noi fossimo nelle ricchezze nel benessere noi non penseremo al Signore ecco perché la maggior parte dei credenti sono sia poveri che anche sofferenti perché perché attraverso quella sofferenza attraverso quel dolore vengono forgiati i credenti e preparati per entrare nel regno dei cieli mentre i ricchi i ricchi infatti Gesù ha detto che è una cosa difficile che i ricchi entrino nel regno dei cieli no è più facile che un cammello entri passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli questo appunto perché l'esempio è qui il ricco non pensa alla religione non pensa a Dio non pensa non ci pensa perché il suo cuore è ripieno della sua stessa gloria e dei suoi beni ripone la sua fiducia nei beni che egli ha ecco perché il Signore ci ha fatti nascere poveri ecco perché il Signore non ci fa elevare in una tale maniera che magari diventiamo ricchi anche noi e rimaniamo spiritualmente come siamo adesso che siamo poveri non dico poveri però insomma diciamo che non è che ci possiamo allargare così tanto magari lavoriamo molti di noi lavorano e hanno di che hanno il necessario ecco quindi Dio ci provvede il necessario non ci possiamo allargare più di tanto e poi soffriamo molte volte soffriamo soffriamo tante cose abbiamo una situazione in famiglia abbiamo una situazione o anche di malessere fisico come taluni hanno perché ci può essere anche un malessere fisico diretto e questo come anche aveva Lazzaro aveva i suoi malesseri fisici ma tutto questo cosa serve magari c'è chi ha il marito non convertito chi ha la moglie non convertita chi ha altri tipi di sofferenze in famiglia tutti questi sono dei pungoli che ci mantengono fermi all'iddio vivente vero ci mantengono lontani da pensieri vani da cose vane da cose inutili perché siamo concentrati alle cose più serie e noi dobbiamo ringraziare Dio per questo perché è il Signore che ha operato ogni cosa anche quando soffriamo è Lui che sta pensando a noi è Lui che ci sta diciamo sta permettendo una sofferenza nella nostra vita per mantenerci attaccati a Lui perché la fine qual è qual è la fine di tutta questa sofferenza è che noi attraverso questa sofferenza siamo forgiati ed entriamo alla fine siamo reputati di dover degni di entrare nel Regno dei Cieli perché il Signore ci ha preparati Lui non che siamo degni perché siamo stati capaci noi di fare qualche cosa ma perché il Dio ci ha formati per entrare appunto nel Regno dei Cieli come è successo a Lazzaro come è successo poi a Lazzaro invece Enrico vedete in questa breve vita di 60 70 80 anni Enrico ha vissuto bene con poche sofferenze non gli è mancato il cibo i vestiti la casa è vero non gli è mancato questo però dopo si è trovato dove si è trovato in un luogo di tormento dove una fiamma ardeva e lo bruciava vedete fratelli e sorelle quanto è importante quanto è importante rimanere attaccati al Signore quanto è importante apprezzare anche quella difficoltà che abbiamo ogni giorno quelle sofferenze che ci arrivano che ci fanno inginocchiare capite quelle sofferenze che abbiamo tutti i giorni difficoltà sofferenze problemi necessità bisogno ci fanno inginocchiare davanti all'Eterno ci fanno rimanere umili ci fanno rimanere sempre nella via diretta al regno dei cieli e sono cose importanti queste che non dobbiamo disprezzare non dobbiamo ritenere che Dio ci abbia trattato in una maniera in una maniera che diciamo come se non ci amasse perché non è assolutamente vero perché uno potrebbe pensare ma vedi se Dio mi amasse non farebbe cadere su di me questa sofferenza ma non è vero non è vero quella sofferenza è un segnale che Dio ti ama nel senso vuole mantenerti umile vuole mantenerti in ginocchio continuamente a lodare e glorificare il suo nome a dipendere da lui per ogni cosa e quindi il Signore ci ama il Signore ama queste persone che soffrono perché quando una persona soffre il suo cuore è migliore il Signore guarda il cuore in questo caso è vero che Dio guarda il cuore ed è lui che provvede affinché il cuore il nostro cuore il cuore dei santi il cuore dei credenti siano come devono essere davanti a lui e lo fa anche con la sofferenza quindi la sofferenza non è che ce l'hanno una cosa è soffrire per per rimanere in comunione con Dio costantemente con Dio e che ci inginocchiamo costantemente un altro sono i giudizi di Dio che scendono contro i peccatori quelli sono un'altra cosa e quelli si si distinguono si distinguono perché il credente è consolato da Dio anche se soffre ovvio è nel momento in cui viene guarito liberato da ogni male e tutto si sistema oppure rimane in quella maniera ma viene consolato capite viene il Signore stesso ci consola delle nostre sofferenze e quindi Gesù ha raccontato vedete questo fatto che è successo a Ricco e Lazzaro vedete quanti significati quanta consolazione in questo racconto vero come è accaduto di Lazzaro e di e del Ricco un'altra cosa che ci fa conoscere questo racconto è che era diviso in due l'Hades c'era il seno di Abramo un luogo dove si era in pace in serenità tranquilli e un altro invece era il luogo c'è questo luogo questo luogo c'è ancora di tormento quello che si è svuotato è il seno di Abramo perché quando Gesù è risuscitato dai morti ha portato con sé tutti questi prigionieri queste queste prigioni e li ha portati nel regno dei cieli nei cieli quindi il seno di Abramo il luogo di pace di serenità si è svuotato e tutti i presenti in quel luogo sono andati al momento con Gesù quando è risuscitato ed è salito al padre mentre quelli che sono rimasti nell'Hades che è al centro della terra sono quelli del luogo di tormento sono quelli dove c'è quella fiamma come dice qui il ricco dice che era tormentato da quella fiamma quindi vedete quelli che sono perduti che muoiono nei loro peccati sono scaraventati in questo luogo nell'Hades chiamato anche inferno nel quale sono tormentati giorno e notte sono tormentati di continuo dove non hanno pace perché questa fiamma li avvolge li distrugge addirittura questo ricco voleva cercare sollievo anche con una goccia d'acqua nella lingua voleva addirittura voleva addirittura che che Lazzon andasse ad intingere un dito nell'acqua per dargli questo sollievo un sollievo che per lui sarebbe stato tanto ma non era possibile Abramo gli dice che non era possibile quindi il tormento vedete il tormento rimane ed è continuo ed è a questo che dobbiamo scampare e questo anche quando abbiamo la possibilità quando annunziamo l'Evangelo della Grazia e dobbiamo quando parliamo di salvezza a qualcuno gli dobbiamo anche dire da che cosa deve essere salvato capite è come dire che io dico dico grido allarme grido aiuto grido che c'è un pericolo a qualcuno no e quello mi dice il pericolo c'è un pericolo ah sì e qual è sto pericolo io devo essere salvato da che cosa bisogna essere salvati e quindi dobbiamo avere pronto anche questo discorso sull'inferno si parla di salvezza perché noi vogliamo che le anime si annuncia l'Evangelo e si parla di salvezza perché vogliamo che le anime non siano scaraventate all'inferno dove saranno tormentate giorno e notte fino a quando l'Hades poi non sarà svuotato nello stagno di fuoche di Zolfo un altro luogo di tormento che attualmente quel luogo lì è vuoto quindi per adesso le anime dei perduti dei ribelli vanno 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 nell'Hades e lì sono tormentati quindi quando parliamo annunziamo l'Evangelo della grazia a qualcuno poi dobbiamo passare a parlargli della salvezza tu devi essere salvato salvato da quale pericolo qual è il pericolo da cui bisogna che quella persona sia salvata dall'inferno si spaventano o non si spaventano questo questo non dipende da noi noi siamo chiamati ad annunziare la verità quello che è scritto Gesù annunziava vedete l'inferno l'annunziava non è che non è che lo nascondeva un'altra cosa di cui volevo parlarvi di quel raccolto è un'altra richiesta che Enrico fece che facciamo altre considerazioni la richiesta di mandare di far risuscitare Lazzaro e di mandarlo a parlare ai loro cinque fratelli affinché non andassero anche loro in quel luogo cioè aveva capito quel ricco che i suoi cinque fratelli che vivevano splendidamente come lui sarebbero andati in quel luogo di tormento l'aveva capito lo sapeva perché quando è andato all'inferno quando è andato nell'Hades Enrico ha capito tante cose un po' tardi per porre rimedio però le ha capite queste cose e ha capito addirittura che in quel luogo ci sarebbero andati ci sarebbero andati anche i suoi fratelli e quindi ha detto almeno io non posso più però almeno i miei fratelli manda Lazzaro cioè manda Lazzaro fallo risuscitare che vada a parlare ai miei fratelli e lui che risusciterà lo ascolteranno certamente ma guardate guardate voglio farvi concentrare sulla risposta di Abramo Abramo dice dice così Abramo disse hanno Mosè e i profeti ascoltino quelli Abramo esorta ad ascoltare cos'è che poteva salvare quei cinque cinque fratelli del ricco dall'andare all'inferno dall'andare nell'Hades erano Mosè e i profeti erano le sacre scritture quindi badate bene le sacre scritture ci danno tutto quello che ci serve che serve alle persone per non andare all'inferno e per andare nel regno dei cieli è sufficiente non sono i segni non sono i prodigi non sono le visioni ai sogni o la risurrezione dai morti con questi segni e prodigi che possono salvare ma sono le scritture sono l'attenersi strettamente alla parola di Dio ed è per questo che noi esortiamo sempre tutti i santi di crescere nella conoscenza della parola perché è scritto il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza questo vuole anche dire che il popolo che cresce nella conoscenza non perisce ma avrà vita quindi la vita la vita dell'uomo la vita del credente dov'è? è nella conoscenza della parola del Dio vivente vero a cominciare proprio dalla nuova nascita gli viene annunziato l'Evangelo una parte vedete delle scritture della verità e cominciare da lì poi il credente deve conoscere tutto quello che è scritto nella parola perché più conoscerà più si comporterà come piace al Signore e più sicura sarà l'entrata nel regno dei cieli perché l'obiettivo nostro è quello di arrivare sino alla fine quindi rimanere fermi nella fede sino alla fine e anche crescere nella conoscenza e fare tutta la volontà del Dio vivente vero e questo può avvenire vedete l'importanza delle sacre scritture può avvenire studiando le scritture crescendo nella conoscenza della parola quanti di voi no? ho sentito dire che da qualche anno adesso stanno incominciando a conoscere a crescere nella conoscenza sono stati molti anni in certe denominazioni ma non crescevano nella conoscenza della parola ma perché là non era presente il Dio là non era presente un Abramo che spingeva le persone alla parola agli scritti sacri si facevano altre cose si fanno altre cose in certe denominazioni in certe comunità purtroppo c'è tutta una religiosità un rituale ma non ha a che fare con le sacre scritture il cuore non c'è non viene messo il cuore nella parola non viene messo impegno nella crescere nella conoscenza della parola non viene annunziato tutto il consiglio di Dio e quindi non si cresce c'è un un ordine dottrinale confuso non si combaciano assieme tutte le cose che vengono insegnate dette invece quando uno si attiene alle sacre scritture la sana dottrina ecco che tutte le dottrine insieme si incastrano perfettamente l'una all'altra e non si non si annullano in maniera assoluta anzi si confermano si aiutano le dottrine la sana dottrina le dottrine della parola di Dio insieme si aiutano non si non si schiacciano capite stanno tutte bene al loro posto quando viene insegnata quando viene insegnato correttamente tutto il consiglio di Dio naturalmente per insegnare tutto il consiglio di Dio bisogna studiare tutto il consiglio di Dio e tutto il consiglio di Dio dove sta? sta in tutte le sacre scritture quindi bisogna studiare da Genesi e da Apocalisse di continuo soprattutto soprattutto devono studiare quei fratelli che magari sono chiamati da Dio a qualche responsabilità nella comunità e devono insegnare agli altri fratelli quelli devono studiare più degli altri perché si devono impegnare a conoscere tutto il consiglio di Dio per poter esporre tutto il consiglio di Dio ci vuole tempo ci vuole anche umiltà bisogna mantenersi umili e il Signore poi a suo tempo si servirà di ciascuno di ciascuno dei santi in una maniera o in un'altra uomini o donne che siano a seconda di quello che è scritto nella parola il Dio si servirà l'importante è che ogni credente si predisponga a servire l'iddio vivente vero senza tralasciare senza annullare niente della sua parola e naturalmente cercando di mettere in pratica quello che è scritto perché perché uno che guarda la parola legge che deve fare così poi non lo fa è chiaro che quello davanti a Dio dipende da quante cose non pratica poi dopo il Signore lo ricambia lo rimunera in base alle sue opere perché noi tutti verremo remunerati in base alle nostre opere non solo in base la nostra fede è importante perché senza fede è impossibile piacere a Dio ma alla fine la nostra remunerazione il premio sarà ricevuto in base a quello che avremo fatto ecco perché ci esortiamo gli uni e gli altri anche a fare prima di tutto studiare le Sacre Scritture e pregare del continuo e poi aiutare i nostri fratelli il nostro prossimo come poi vedremo aiutare il prossimo il prossimo racconto che leggeremo riguarderà appunto aiutare il prossimo adesso terminiamo qui quindi vedete come Abramo spingeva a considerare gli scritti e poi guardate si contrappone Enrico si contrappone a quello che aveva detto Abramo e gli dice ed egli no padre Abramo ma se uno va loro dai morti si ravvederanno ma Abramo rispose se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse vedete se uno ascolta la parola ascolta anche i segni di Dio ascolta anche i prodigi che avvengono in Dio i sogni le visioni ma se uno non ascolta la parola qui dice qui dice Abramo Gesù che racconta quello che dice Abramo quindi Gesù avalla Gesù conferma e dice chiaramente che Abramo ha ragione perché questo lo sta raccontando Gesù quindi lo sta dicendo appunto per insegnarci qualcosa anche a noi e le parole di Abramo sono appunto queste che se uno non ascolta la parola praticamente i comandamenti di Dio quello che è scritto nella parola di Dio se non ascolta il Dio attraverso la sua parola non ascolta il Dio neanche quando manda i segni e i prodigi capite quindi quello che è importante alla fine la cosa più importante di tutto è credere alla parola di Dio a quello che è scritto nella sua parola questa è la cosa importante noi crediamo anche ai segni e prodigi attenzione che Dio può mandare segni sogni visioni compiere segni e prodigi guarire liberare dai demoni battezzare con lo spirito santo distribuire doni spirituali risuscitare anche dai morti noi lo crediamo lo dobbiamo credere perché è scritto nella parola il Dio lo può fare lo fa noi lo crediamo però quello che è necessario in maniera assoluta è la parola di Dio è quella che noi dobbiamo innanzitutto portare avanti crescere noi nella conoscenza e portare avanti la parola i segni e i prodigi sono una giunta capite infatti leggiamo in ebrei in ebrei così per comprendere che tutte queste cose potenti gloriose che vengono sempre da Dio ma devono essere una conferma alla parola non sostituiscono la parola perché taluni cosa fanno gridando la rivelazione annullano la parola di Dio e Dio mi ha rivelato che la donna non deve pregare più col velo e Dio mi ha rivelato che la donna può insegnare contravvenendo ai comandamenti che sono scritti nella Bibbia il comandamento che la donna deve pregare con il velo il comandamento che dice che la donna non può insegnare la parola la dottrina e la parola di Dio se è scritto nella parola tutto il resto non può andare contro la parola qualsiasi segno e qualsiasi rivelazione ci sia non può annullare le sacre scritture come ha detto Abramo che hanno Mosè e i profeti hanno le sacre scritture quindi quelle sono importanti più dei segni della risurrezione dai morti qui in ebrei capitolo 2 dal versetto 3 dopo la seconda parte del versetto 3 2-3 la quale dopo essere stata prima quindi la salvezza stiamo parlando della salvezza qui la quale dopo essere stata prima annunziata dal Signore ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi con opere potenti svariate e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà vedete tutti questi segni e prodigi potenti e gloriosi vengono dati da Dio per confermare il messaggio della salvezza capite e tutto opera sempre in funzione della verità della parola di Dio del messaggio della parola di Dio che vuole portare alla salvezza le anime quindi quindi ecco perché noi vi presentiamo del continuo la parola come il centro di tutto il centro del credente è la parola del Dio vivente vera è una cosa oggettiva presente scritta lì che tutti possono leggerla ed è così per tutti se uno invece crede solo nelle rivelazioni spostiamo la Bibbia cento persone in una comunità ognuno può avere una sua rivelazione e non c'è niente di oggettivo ho ragione io ho ragione tu ho ragione quell'altro invece con la parola da lì non si può uscire hai avuto un sogno racconta il sogno vediamo se può superare la prova della parola di Dio c'è stato un segno c'è stato un prodigio c'è stato qualcosa vediamo se la tua condotta è conforme a quello che è scritto nella parola di Dio per poter credere dobbiamo passare attraverso la parola di Dio per poter credere a determinate persone dobbiamo farle passare attraverso la parola di Dio quello che dicono e quello che fanno perché è la parola che è importante è fondamentale la cosa fondamentale da cui non possiamo prescindere non ci dobbiamo allontanare dalla parola vedete addirittura qui dice che i segni e i prodigi tutto quello che Dio di potente opera lo opera per confermare il messaggio che viene annunziato per confermarlo cioè il Dio conferma il messaggio che viene annunziato quindi dobbiamo pregare che Dio compia segni prodigi e miracoli ma non per sostituire quello che c'è scritto nella parola ma per confermare il messaggio della parola e questo è il senso dei segni e dei prodigi che molti vogliono vedere segni e prodigi però non vogliono attenersi alle sacre scritture ma a che serve questo a che serve noi ci dobbiamo attenere stringere attenerci strettamente alla parola di Dio tutto il resto deve confermare la parola non annullarla tutto il resto che accade quindi è importante vedete la parola perché anche in quel racconto tra Enrico e Lazzaro lo stesso Abramo rimanda ai sacri scritti come cosa fondamentale per essere salvati per il messaggio della salvezza ora parlato di questo andiamo a leggere sempre nel Vangelo di Luca volevo leggervi un altro racconto un altro racconto e volevo vi racconterò leggeremo adesso il racconto del Samaritano innanzitutto vedete se voi leggete la sopra scritta sopra scritta quella scritta in neretto chi ce l'ha in neretto io nella mia Bibbia ci ho scritto parabola del buon Samaritano allora in questo racconto innanzitutto non è una parabola è un racconto perché non c'è niente neppure qui che ci faccia pensare che sia una parabola non c'è nessuna parola non c'è scritto che è una parabola non c'è scritto che è una similitudine non c'è scritto la parola come non c'è scritto la parola assomigliare non c'è scritto niente nessuna parola che ci fa pensare che il racconto che Gesù ha dato a quel dottore della legge per mostrargli chi è chi doveva essere il suo prossimo non c'è niente che possa far pensare che sia una parabola e non è neanche buon perché questa è conosciuta come la parabola del buon Samaritano allora già la parola parabola non ci deve essere perché è un racconto di un evento di un fatto realmente accaduto quindi non è una parabola poi da nessuna parte è scritto che il Samaritano era buono non è scritto neppure che il Samaritano era buono quindi perché lo dobbiamo dire noi che quel Samaritano era buono quel Samaritano è stato un esempio per noi da seguire certamente ma buono uno solo è buono maestro buono andò il giovane ricco lo chiamò Gesù e Gesù gli ha detto non che Gesù non fosse buono ma l'ha messa alla prova però Gesù è buono il Dio è buono infatti Gesù dice uno solo è buono se uno solo è buono tutti gli altri non sono buoni cioè non sono brave persone gli altri capite il Dio soltanto è buono quindi non possiamo chiamare buono diciamo e in questo caso appunto nel racconto del Samaritano non c'è scritto che era buono quindi non lo dobbiamo chiamare così buon Samaritano non c'è scritto c'è scritto che Lot era giusto lo possiamo chiamare perché che Lot era giusto perché è scritto nella Bibbia che il giusto Lot c'è scritto e così lo chiamiamo quindi ci dobbiamo attenere strettamente ad ogni parola così come è scritta adesso andiamo a leggere il racconto del Samaritano lo leggiamo vediamo il suo significato verace quello che veramente vuole significare e vi parlerò anche di un significato figurativo che gli hanno dato ma è un significato falso quindi siamo capitolo 10 del Vangelo di Luca leggiamo tutto dal versetto 25 ed ecco un certo dottore dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse maestro che dovrò fare per eredar la vita la vita eterna ed egli disse nella legge che sta scritto come leggi e colui rispondendo disse ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso e Gesù gli disse tu hai risposto rettamente fa questo e vivrai ma colui volendo giustificarsi disse a Gesù e chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbattè in ladroni i quali spogliatolo e feritolo se ne andarono lasciandolo mezzo morto or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e veduto colui passò oltre dal lato opposto così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino poi lo mise sulla propria cavalcatura lo menò ad un albergo e si prese cura di lui e il giorno dopo tutti i tratti fuori due denari li diede all'oste e gli disse prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più quando tornerò in su te lo renderò quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni e quello rispose colui che gli usò misericordia e Gesù gli disse va e fa tu il similiante Gesù raccontò principalmente principalmente questo racconto perché quel il dottore della legge che aveva inizialmente risposto bene quindi non era lontano dal regno di Dio però aveva delle riserve ancora citò i comandamenti più grandi di tutta la legge che sono di amare Dio con tutto se stessi e di amare il prossimo come noi stessi qui si racchiude la legge e i profetti si racchiude tutto in questi due comandamenti infatti se uno riesce ad amare il prossimo e amare Dio con tutte le proprie forze con tutta la propria mente e amare il prossimo come se stesso ha adempiuto tutta la legge tutti i comandamenti di Dio perché non farà del male a nessuno praticamente anzi farà del bene però questa persona questo questo dottore della questo questo dottore della legge dice chi è il mio prossimo cioè aveva capito come dottore della legge sapeva sapeva che doveva amare Dio ma amare il prossimo come se stesso aveva sicuramente delle riserve e quindi voleva sapere chi era il suo prossimo ma guardate guardate che racconto ma qui qui veramente ogni volta che penso a quello che Gesù gli ha detto questo dottore mi lascia sempre meravigliato come è potente era potente la parola di Gesù Gesù gli ha raccontato di un fatto accaduto che un samaritano aveva aiutato un giudeo per fargli capire chi era il prossimo la cosa era così cioè creava così meraviglia perché guardate in Giovanni cosa è scritto in Giovanni al capitolo 4 quando Gesù incontra la samaritana al pozzo gli chiede da bere quindi 4 al versetto dal versetto 7 Gesù gli dice alla samaritana una donna samaritana venne ad attingere l'acqua Gesù le disse dammi da bere giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare onde la donna samaritana gli disse come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani vedete i giudei non volevano avere niente a che fare con i samaritani Gesù per spiegare a quel dottore della legge chi era il suo prossimo ha usato un samaritano un racconto dove era dove nel racconto la parte principale del prossimo era occupata da un samaritano quindi il comandamento di amare il proprio prossimo in questo caso per il dottore della legge il prossimo l'ha dovuto riconoscere era il samaritano samaritani col quale i giudei non avevano alcuna relazione col quale non volevano avere nessuna relazione erano i samaritani erano disprezzati dai giudei quindi non gli ha citato un esempio di amare il proprio fratello giudeo gli ha citato un esempio per dimostrargli chi era il suo prossimo citando il samaritano una di quelle categorie di persone che i giudei non amavano assolutamente anzi si tenevano lontani ha citato appunto il samaritano il samaritano quindi infatti nella risposta del dottore c'è scritto colui che gli usò misericordia non l'ha chiamato neanche samaritano si vede che ha capito la profondità quindi gli ha spiegato qual è la profondità di quel comandamento di amare il prossimo come noi stessi quindi bisogna amare il prossimo come noi stessi il prossimo va amato anche quando non ti è simpatico anche quando non ti va a genio anche se ti ha fatto del male anche se è un tuo nemico un tuo persegutore anche se è un tuo pungolo ecco la difficoltà di amare il prossimo vedete com'è difficile poi mettere in pratica i comandamenti dell'iddio vivente vero non è facile però il signore ci aiuta a praticare tutti i comandamenti i suoi comandamenti non sono gravosi perché il signore ci aiuta a portarne il peso ci aiuta però il nostro prossimo non è solo colui che noi che lui ci ama noi e noi amiamo lui allora quello col quale vado d'accordo quello è il mio prossimo il nostro prossimo sono tutti a cominciare appunto come Gesù ha citato in questo racconto ha citato appunto una categoria di persone che non andava genio con cui non avevano relazione i giudei un samaritano e gli ha spiegato appunto chi era il suo prossimo perché Gesù conosceva i giudei conosceva quel dottore della legge conosceva i suoi punti tutti i loro punti deboli li conosceva conosceva cosa avevano nel cuore questi giudei e Gesù parlava per insegnare loro sia in base alle domande che facevano ma anche in base a quello che sentivano nel loro cuore capite quindi Gesù andava veramente insegnava le cose come dovevano essere insegnate perché Gesù diciamo conosceva ascoltava era un attento ascoltatore ma anche rispondeva in base a quello che vedeva nei cuori di queste persone ora volevo soffermarvi soffermarmi sull'ultimo versetto questo è fondamentale per un altro tipo di aspetto qui dice Gesù Gesù gli disse va e fa tu il similiante ora Gesù ha raccontato quel racconto che era un esempio di aiuto il pros di aiutare una persona bisognosa quindi non solo vedete l'ha raccontato per dimostrare chi era il prossimo di quello che fu diciamo aggredito dai ladri ma anche come esempio di come si deve aiutare una persona quindi innanzitutto non bisogna non bisogna fare finta se vediamo un fratello se vediamo una persona bisognosa veramente bisognosa di aiuto qui non stiamo parlando di finti poveri o altro qui se veramente incontriamo qualcuno che ha bisogno lo dobbiamo aiutare in base alle nostre possibilità è chiaro non possiamo aiutare in base a quello che non abbiamo quello che abbiamo quindi bisogna aiutarlo in tutte le maniere anche consolare con una parola di conforto di consolazione in tutte le maniere secondo dei bisogni di quelle persone indipendentemente se ci sono amici o nemici quando si crea la situazione noi dobbiamo aiutare tutti e aiutarli sino in fondo perché non è che l'ha aiutato lì per terra l'ha fasciato l'ha vestito e l'ha lasciato lì no l'ha trasportato con sé nella sua propria cavalcatura l'ha portato fino in un albergo ha pagato le sue spese per poterlo affinché si riprendesse completamente e gli ha detto pure se spenderai di più io ti darò il resto vedete aiutare un bisognoso non soltanto di sfuggita una tantum ma aiutarlo fino a quando se quando se e quando ne abbiamo la possibilità è chiaro secondo le nostre possibilità aiutare le persone a uscire da una condizione di difficoltà e ognuno di noi io so bene che il Signore ci mette davanti queste persone tal molte volte sono bisogni spirituali sono bisogni di consolazione di conforto allora lo dobbiamo dare sino in fondo fino a dove ci ha permesso di farlo e dobbiamo farlo sino in fondo non soltanto così in maniera di sfuggita ma come ha fatto il samaritano che lo ha portato fino alla risoluzione totale del problema lo ha lasciato solamente quando era in perfetta custodia e sistemato quindi un aiuto completo profondo sino alla fine tentando sempre di eliminare le problematiche che questa persona ha secondo la grazia che Dio ci ha dato secondo le possibilità qui non si parla solo di beni materiali o di beni di denaro in base a tante cose capite anche anche la solitudine dei vecchi degli anziani un bisogno di una donna incinta o tanti altri problemi una famiglia numerosa deve la madre ha bambini piccoli ha bambini che deve portare a scuola deve allora noi parliamo che le persone che le famiglie cristiani devono avere figli e gli altri quindi devono soccorrerle nel loro bisogno quindi quando ci sarà l'occasione ricordatevi che c'è tanto lavoro da fare per tutti quanti uomini e donne in un modo che in un altro dobbiamo aiutare quelli che hanno bisogno in tutte le maniere possibili perché c'è sempre bisogno all'interno della chiesa adesso facciamo più fatica perché siamo un po' distanti gli uni dagli altri per quanto ci riguarda noi ma nel momento in cui però c'è un gruppo che si riunisce a cominciare all'interno stesso bisogna informarsi dei vari bisogni che ci sono e aiutarli a uscire da questa condizione di bisogno per quanto è possibile è chiaro perché se quelli hanno bisogno di tanti soldi c'è uno non è che anche noi non è che credo almeno io non è che si può dare qualcosa da mangiare ma purtroppo non si può provvedere chissà che cosa però parole di conforto di consolazione di aiuto di tempo di pazienza quello si può fare sempre ce n'è quello bisogna sacrificarsi per i fratelli e questo era il significato vedete il doppio significato il prossimo è come bisogna aiutare questa frase è importante va e fa tu il similiante vuole dire vai anche tu e fai esattamente come ha fatto quel samaritano fai lo stesso quando trovi un uomo bisognoso quest'ultima frase è anche importante perché perché c'è una cerchia di persone c'è una cerchia di persone che ritengono questo questo racconto come una parabola una parabola in cui vedono nel samaritano Gesù la persona ferita la vedono come il peccatore quelli i malviventi che l'hanno aggredito sono il peccato del mondo sono il mondo che l'aggredisce e il samarita il levita e il sacerdote sono aspetti religiosi del mondo che non portano aiuto e il samaritano vedono che è Gesù il samaritano che aiuta lenisce i dolori cura le ferite salva e perdona dai peccati e salva quel peccatore questo è in grosso modo adesso non mi soffermo in ogni singolo dettaglio ma questo è il senso che danno a questo racconto quando lo citano come parabola non è una parabola ma è un racconto realmente accaduto e non può avere neanche questo significato perché appunto leggendo l'ultimo versetto come abbiamo già letto che dice vai tu e fai il similiante cioè vai tu e fai lo stesso cosa che ha fatto il samaritano ora noi possiamo fare quello che ha fatto il samaritano se è veramente un samaritano cioè se è un uomo che ha aiutato un altro uomo ma se quell'opera se quel samaritano è Gesù Cristo se noi lo raffiguriamo come Gesù Cristo prendiamo questo racconto come illustrazione naturalmente non è non è una parabola però ci sono quelli che la prendono come parabola prendendola come parabola le cose non combaciano non corrispondono perché Gesù dice al dottore della legge gli dice vai tu e fai la stessa cosa che ha fatto il samaritano se quel samaritano per Gesù fosse fosse se stesso che salva come fa come facciamo noi come fa il dottore della legge e noi pure a fare quello che ha fatto il samaritano se è Gesù se è Gesù che salva quell'opera la può fare solo Gesù l'opera di salvezza quindi noi non possiamo fare l'opera che ha fatto Gesù noi possiamo fare l'opera che ha fatto il samaritano questo sì quindi quel passaggio biblico non può assolutamente essere preso come una parabola e con questo significato figurativo vedete quindi con questa smania di voler allegorizzare tutto di voler rappresentare tutto in una maniera figurata porta le persone a dare significati ipoteticamente buoni Gesù guarisce salva tutti i significati che effettivamente a sentirsi sono belli non è che sono brutti ma non sono veri non sono veri perché lì in quel punto non c'è nessuna salvezza di Gesù Cristo lì c'è un samaritano che aiuta una persona bisognosa è quello che noi dobbiamo concentrarci quando dobbiamo pensare come aiutare una persona dobbiamo ricordarci del racconto di Gesù sul samaritano non solo come esempio di prossimo per capire chi è il prossimo ma anche come aiuto perché Gesù nell'ultima frase infatti vuole dire questo cioè guardate bene a quello che ha fatto il samaritano e voi fate la stessa cosa è questo quello che ha insegnato Gesù quindi non c'è anche nel racconto del samaritano non c'è nessun elemento che ci possa far pensare che sia una parabola e quindi nel dargli quel significato errato che gli hanno dato taluni abbiamo dimostrato che non è possibile altrimenti se il samaritano sarebbe se dovevamo considerare il samaritano come Gesù e quindi l'opera che Gesù ha fatto Gesù non poteva dire vai tu e fai la stessa cosa che ha fatto il samaritano non lo poteva dire perché quell'opera la può fare solo Gesù Cristo quindi non si può dare questo significato se taluni di voi hanno udito questa questa spiegazione questa spiegazione sappiate che non è corretta è una bella una bella favoletta no? una bella storia che raccontano ma non corrisponde alla verità quindi sono parole umane di sapienza umana che volte ad annullare perché se noi lo prendiamo figurativamente annulliamo il significato preciso e letterale che c'è in quel racconto che è quello che il samaritano ha aiutato il bisognoso e che quel samaritano era il prossimo del giudeo e quindi quel samaritano che tanto odiato no? i samaritani non sono certamente non erano amati dai giudei e invece i giudei dovevano imparare ad amare i samaritani amare il prossimo quindi quando si esce fuori dalla verità vedete poi si 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 cominciano a parlare in maniera sbagliata si cominciano a dare significati che non sono veri non sono veri e anche qui vi accorgete come le persone sono prive di quel discernimento spirituale e di quell'intelligenza spirituale che viene da Dio vedete ritorniamo quindi al fatto che abbiamo detto al principio che Gesù ha parlato in parabole per nascondere determinati significati a quelli di fuori mentre a quelli di dentro il Signore gli viene rivelata la sapienza l'intelligenza l'intendimento il discernimento viene dato il discernimento la conoscenza necessaria per capire un determinato passaggio un determinato insegnamento del Signore un determinato verità della parola di Dio e questo fratelli era quello che avevo in cuore in cuore di dirvi oggi affinché voi impariate capiate che c'è anche questa problematica nel leggere le scritture quando come fare e quando riconoscere come riconoscere una parabola e come determinate altre storie invece sono dei racconti questo mi sentivo in cuore di trasmettervi per aiutarvi nello studiare le sacre scritture a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén di trasmettervi